Andiamo, siamo in ritardo. Dai, sbrigati. Muoviti. Che cazzo fai? Saremmo già qui da un quarto d'ora se non perdi tempo con tutte le tue sronzate. Santo cielo, Luis, datti una calmata, eh? E che cazzo ha io? Te lo dico per l'ultima volta. Piantala di l'opera. Lasciami la mano, idiota. Mi fai male? Ti raddrizzo io, Troia. Mongoloide del cazzo. Sì, è assoluto. Vado a una riunione con questo e vedrà come per tutti sotto schiaffo. Sì, è carino. Lo prendo. Però ho fretta, mi fa subito il conto? Contanti o carta? Contanti. Le sta bene quel vestito? Do un'occhiata a quella vetrina. Tu non dai occhiata, non vedi nessuna parte, te ne stai piantata qui. Stai sudando. È un lavoro troppo difficile per te. Vabbè, torno tra poco. No, tu resti qui, chiaro. Dai troppo nell'occhio, non voglio farmi vedere quanto. Non me ne frega niente, tu resti qui lo stesso. Ehi, mollami il braccio. Alta moda. Che stronzio. Ehi, dove vai? Voglio uscire, che ne dici? Dammi la busta. Col cazzo, la porto io. Nazione, dammi quella busta, dammi questa cazzo di un fuoco. Ehi, mezzo coglione, la vuoi roma? La busta ti apro in due, che cazzo ti sei messo in testa, stronza? D'accordo, d'accordo, non c'è bisogno di agitarsi tanto. La busta la porto io. Sì, ma prenditi anche qualche pillola per darti una calmata. Piccatele su per il culo. Non ti ricordi da dove siamo entrati? Eh no, non da questa parte. Dove ca... Da quale parte? Da quale parte? Santo cielo! Voi due siete più gran coglioni che ho mai incontrato nella mia vita, e te in particolare, Cristo. Ma come facevi a rapinare banche? Ehi, Einstein, ti capitava anche allora di perderti la macchina? Ora è chiaro perché finivi dentro. È in questa fila? Ci sta? Luis! Luis! È in questa fila o in quella accanto? Era di qua. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. O è un'altra allucinazione? Forse il sole ti ha dato... Ehi, vedi? Dacci un taglio, d'accordo? Tieni chiusa quella bocca. Eh, ma... Non voglio sentire neppure una cazzo di parola, chiaro? D'accordo, Luis. Visto? E dove dicevo io? Troviamo il cazzo. Asi, devi chiamare qua. Sì, è in questa fila. Tu non cazzo di loro. Cazzo energia. Poi! Ma staggamba! E poi cazzo di pericolino? Tieni. Grazie per la visione!